Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo cosa ha pronosticato l'unico ad essersi qualificato alla quarta fase della puntata numero 7 che per la scommessa. Doveva pronosticare 9 partite con quota non inferiore a 1,65 se voleva concorrere per questo premio, un mp3. Oppure pronosticare 12 partite con quota non inferiore a 1,65 se voleva concorrere per questo premio, un tablet 4 giga di ram. 15 partite con quota non inferiore a 1,65 se voleva concorrere per un cellulare e 19 partite con quota non inferiore a 1,45 se voleva concorrere per un portatile 4 giga di ram e 500 giga di hard disk. Ma adesso andiamo a vedere cosa ha pronosticato, cosa ha deciso di pronosticare l'unico qualificato al gioco. La prima partita è Chelsea Wolverhampton 1 a 1,53, poi Inter Spal 1 over 1,5 a 1,60, Sampdoria Atalanta gol a 1,57, Sassuolo Napoli gol a 1,74, Roma Empoli 1 a 1,52, Leicester Fulham 1 a 1,60, Arsenal Manchester United gol a 1,55, Manchester City Watford over 2,5 casa a 1,86, Liverpool Burnley over 2,5 casa a 1,65, poi andiamo avanti, Atletico Madrid Leganes 1 a 1,45, Real Valladolid Real Madrid 2 a 1,45, Borussia Dortmund Stokkarda 1 over 1,5 a 1,45, Bayer Monaco Wolfsburg 1 over 2,5 a 1,60, Hannover Bagna Leverkusen gol a 1,65, Offenheim Norimberga 1 over 2,5 a 1,60, Monaco Bordeaux 1 a 1,70, Saint-Etienne Lille gol a 1,80, Olympique Marsiglia Nizza gol a 1,95 ed infine Lecce Foggia gol a 1,67. Dunque praticamente ha deciso di pronosticare 19 partite e nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti il premio per Alessandro Crudo sarà un portatile 4 giga di ram 500 giga di hard disk. Vi ricordo inoltre che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco dove tutti potrebbero pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti ci vediamo al prossimo video. Ciao